Penultimo punto, ricerca di un valore, algoritmo fondamentale, dovete assolutamente memorizzare lo schema, algoritmo, ma non a memoria, coglietene l'essenza e poi si potrà anche ricostruire, un po' alla volta. Beh, intanto sistemiamo la richiesta della data da cercare, non sto neanche a commentare però, è il caso più semplice di ricerca perché dovrei trovare, se trovo una volta sola, una certa data nel file dovrei trovarcela una volta sola. L'algoritmo va comunque bene anche per tutti i casi in cui l'elemento che si sta cercando potrebbe comparire anche più volte nell'insieme di ricerca, dove però mi interessa fermarmi alla prima occorrenza, al primo esemplare che ha lo stesso valore che incontro. Scommetto che ormai sapete già in che direzione muovervi, se la richiesta fosse invece stata, beh, io sto cercando questo valore, dimmi tutte le posizioni in cui si trova. La soluzione è quella vista pochi minuti fa, mi preparo un altro vettore per i risultati, per le posizioni in cui ho trovato, teoricamente il caso peggiore è tutti i valori sono uguali, quel valore è dappertutto, quindi dovrei avere, nel caso peggiore da gestire, un vettore per i risultati, le posizioni, che ha tanti elementi, quante sono le date stesse. Altrimenti si sceglie un valore ragionevole, non so, sono 50 elementi in cui cercare, so già che più di 4-5 volte non troverò lo stesso elemento e allora, vabbè, prevedo un vettore di 10 elementi e dico che dovrebbe starcene più che a sufficienza come risultati trovati. Volete la soluzione perfetta? Allora utilizziamo tecniche di gestione dinamica della RAM, costruiamoci una lista concatenata che potrà crescere all'infinito e contenere esattamente il numero dei risultati del caso. Ecco un possibile algoritmo, utilizzo una variabile intera che alla fine, se trovo, conterrà come valore la posizione in cui ho trovato la data cercata. Inizialmente lo pongo ad un valore impossibile per il vettore, meno 1. Meno 1 per me starà a significare non ho trovato. Infatti, dopo il ciclo di ricerca, se il valore è rimasto meno 1, scrivo appunto non trovato. Poi uso una variabile per scorrere il vettore, da 0 fino a inseriti, meno 1. Uso un ciclo Y perché voglio fermarmi appena trovo, per non sprecare altri controlli se quello che mi interessa è la prima occorrenza, oppure so che se c'è è l'unica. Inutile controllare gli altri 999.000 se lo trovo subito in seconda posizione. La condizione che abbiamo già visto, mi sembra, anche per altra situazione è doppia. La prima cosa, che è la più importante, è che la posizione non deve aver superato il valore inseriti meno 1, per cui deve essere ancora minore di inseriti. Se è vera questa, cioè ho ancora elementi da controllare e contemporaneamente, doppia ampersand, doppia e commerciale, il valore di dove si trova è ancora meno 1, a confermarmi che non ho ancora trovato, allora andiamo avanti, facciamo un altro controllo. E cioè, con un bel if, andiamo a vedere se la data che si sta cercando, la data cercata, è uguale a quella che trovo nella posizione indicata appunto dalla variabile posizione. Se è così, ho trovato, allora devo cambiare il valore di dove si trova, da meno 1 diventa la posizione in cui ho trovato. Così, al giro successivo del ciclo, questa parte della condizione diventerà falsa e il ciclo terminerà. Viceversa, incremento posizione, andiamo a controllare quella che segue, e al ciclo successivo, di nuovo, sarà questo a decidere se uscire o no dal ciclo. Se sarà ancora minore di inseriti, si andrà avanti in un altro colpo, altrimenti ci uscirà. E dove si trova avrà ancora il valore meno 1, da cui stamperei non trovato. Viceversa, abbiamo trovato, e allora il numero di gol di quella giornata, localizzata, localizzata alla posizione dove si trova, è gol di dove si trova. Eseguo. Che data cerco? Vediamo un po' questo primo luglio, che è il penultimo, quindi dovrebbe darmi due gol. 0,1, devo stare proprio esatto esatto, non posso mettere 1, eh. 0,1, 0,7, dovremmo rendere più intelligente l'algoritmo che sta leggendo il dato, trattino 2014, numero gol, 2. E siamo arrivati in fondo. Ricerca del minimo o del massimo? In quale data è stato segnato il massimo numero di gol? O il minimo? È la stessa cosa, eh. Di nuovo, ci può essere il caso in cui si sa che, o potrebbe, capitare che il massimo è uno solo, che ci sia una giornata dove c'è il massimo assoluto di numero di gol segnati, oppure due o più giornate a pari merito come numero massimo di gol. Ma a differenza dei casi precedenti, se ci interessassero tutte le date in cui c'è stato il massimo numero di gol, non dovremmo modificare l'algoritmo di base. Andremo a determinare qual è il valore del massimo, anzi dove si trova e di conseguenza il valore, e poi con un ciclo for fare la scansione di tutte le date e stampare quelle che sono in corrispondenza di un numero di gol pari al massimo. Quindi 12 è il massimo numero di gol, ok, scansione di tutti i risultati, e ogni volta che troviamo 12, vuol dire che quella è una delle date in cui è stato segnato il massimo numero di gol. Trovare la posizione del massimo è una soluzione comunque migliore e non più costosa, soprattutto, che non sapere qual è il valore massimo. Tanto, se sappiamo la posizione, è un niente andare a vedere qual è il valore corrispondente a quella posizione. Ci dà più informazione la posizione. Infatti, trovando semplicemente il valore massimo dei gol, non sapremo poi subito andare a localizzare qual è la data in cui sono stati fatti quel numero di gol. Con la posizione del massimo, invece, oltre a quel valore, potremmo andare a vedere la stessa posizione nel vettore delle date e sapere, ovviamente, anche quando sono stati segnati quel numero di gol, che è proprio quello che sto comandando qui. In uscita dal ciclo, POSMAX è la posizione in cui è stato localizzato il primo dei valori massimi e nel vettore delle date trovo la data corrispondente. Ma vediamo come funziona l'algoritmo. In partenza, si fa finta, magari è proprio lì, che il massimo si trovi in posizione 0. Poi, si va a confrontare il numero dei gol contenuti nelle altre posizioni con quello che, di volta in volta, si pensa essere la posizione del massimo. e quando si trova una posizione I in cui il numero dei gol in realtà è più grande del numero dei gol in quella posizione in cui si pensa essere il massimo, si conclude, ah no, calma, abbiamo trovato una nuova POSMAX che è migliore della precedente. Questa I contiene un valore che è più grande di questa POSMAX e allora il nuovo POSMAX diventa I, quella I. Alla fine, in POSMAX, ci sarà veramente quella posizione in cui si trova il massimo numero dei gol. Notate come si parta per il confronto dalla posizione 1 perché che senso avrebbe confrontare partendo con I uguale a 0 gol di 0 con gol di max, di POSMAX che è ancora gol di 0 ovvio che non scatterebbe questo IF, giusto? Per cui, riepilogando, facciamo finta che il massimo sia in gol di 0 di gol di POSMAX 0 poi si va a confrontare gol di 1 con questo gol di 0 facciamo finta che il più grande sia ancora questo e quindi POSMAX non viene cambiato, rimane 0 poi si va a confrontare gol di 2 con gol sempre di 0 di nuovo facciamo finta che il numero dei gol della prima giornata sia ancora superiore e quindi non cambia nulla infine, ipotizziamo che in gol di 3 ci sia un valore che è più grande di gol di 0 alla quarta giornata l'indice 3 corrisponde alla quarta giornata sono stati segnati più gol che alla giornata 0 la prima e quindi diciamo ah no, calma è qui in E uguale a 3 che si è verificato un numero di gol maggiore a quelli che fino adesso erano stati considerati il massimo numero di gol per cui il POSMAX diventa 3 rimarrà 3? non lo sappiamo sappiamo solo che tutte le posizioni verranno confrontate e ogni volta verrà distillato per così via selezionato sempre quella in corrispondenza del massimo altra osservazione maggiore o maggiore uguale con maggiore lo scambio viene fatto solo quando si trova un valore veramente più grande cosa vuol dire? vuol dire che se abbiamo 3 massimi noi andremo a determinare il primo perché nelle posizioni in cui si trovano gli altri due a pari merito pari valore il maggiore stretto non farà scattare come vero l'IF perché se il massimo fosse 56 andremo a confrontare 56 è maggiore di 56 no è uguale e quindi non farebbe lo scambio per cui postmax rimarrebbe ancorata alla posizione più piccola in cui si trova il primo dei massimi a pari merito mettendo invece maggiore o uguale verrebbe memorizzata la posizione dell'ultimo dei massimi a pari merito per trovare il minimo ah beh basta cambiare qui postmin e qua andare a fare lo scambio quando è minore basta ho aggiunto anche il ciclo for che una volta determinata postmax come indice del massimo ci permette di confrontare tutte le caselle tutte le giornate ogni volta che ne troviamo una in cui i goal sono uguali a goal del massimo allora quella è una casella di massimo e quindi la stampiamo come data adesso dovremmo mettere nel file due giornate con lo stesso numero di goal massimo se non ricordo male è il 56 che però è presente una volta sola infatti se mandiamo un'esecuzione dunque che data cerco questa è la cosa precedente 2 tanto per non trovato naturalmente data con massimo goal numero goal segnati il 15 giugno va bene infatti se guardiamo qua 1,2,3 il 15 giugno 1,2,3 il 56 ci sta e poi la stampa di tutte le date con goal con valore massimo solo il 15 giugno perché ci sono lei provate voi ad aggiungere sul file un'altra data con 56 goal vedrete che verranno elencate tutte e due termina la quarta parte che è anche la conclusiva di questo video esercizio a risentirci